Questa azione è splendida, vediamo Piontek che va sulla fascia, viene avanti Piontek e c'è il corner, azione nata splendidamente, due fraseggi, lancio lungo per Piontek. Signori, il calcio di Giampaolo, il calcio del Milan, esagero, se esagero tienimi giù dal mio tappeto volante, tienimi giù tu Fabio Bazzani, ma questa è una grande azione. Questo uno, due, tre, lancio lungo a Piontek, attenzione, Suso mette in mezzo questo pallone, colpo di testa, gol, Samu, Castiglieco, due a uno per i ragazzi, è giunco lustroso, il giunco luminoso e lustroso, colpo di testa, bionda, i ragazzi due a uno, dopo quell'azione meravigliosa, l'assist morbido, l'arcansiel, pallone morbido, deviazione, però diamo il gol, ovviamente, attenzione, colpo di testa, poi la palla tocca, mi sembra, il due Lindelorf e si infila, ed ecco, il due a uno per i ragazzi, al minuto, al minuto sessanta.